L'Ariano Film Festival è giunta alla sua sesta edizione e abbiamo qui uno dei top dell'animazione, colui che ha fatto nascere Yo-Yo o forse ha fatto nascere anche qualche cos'altro in questi anni che fai animazione. Innanzitutto, scusi un attimo, ma lei chi è e si presenti? Io mi chiamo Alfio Bastiancic, vengo da Torino qui ad Ariano, sono venuto fino alla prima edizione del festival, mi ha invitato Anna Rita Cocca, che è la fondatrice e direttrice di questa manifestazione. Ho mancato un paio d'anni, quindi quest'anno sono molto felice di esservi nuovo qui con voi. Ah, quindi l'ha mandato a casa come ripetente e gli ha detto si ritorni per gli esami nuovi? Esatto, infatti ho portato un temino qui questa sera, vediamo se mi promuovono i bambini. I bambini sono i peggiori critici, ma anche i migliori critici. Però mi pare che l'audience di Ray Yo-Yo e di tutti i Yo-Yo che hai fatto, mi pare che sia favoloso. Sì, è molto buona, siamo molto contenti, la serie va in onda ormai da un anno, stiamo facendo una nuova serie di altri 52 episodi, la stiamo vendendo un po' in giro per il mondo. Ho visto che l'avete venduta anche in Cina, in Giappone, paesi dove l'animazione forse è anche più presente. Assolutamente, hanno le loro produzioni naturalmente, ma sono anche aperti a cose degli altri. Poi naturalmente in Europa, in Sud America, in Nord Africa. In Nord Africa? Sì, negli Emirati. E come fanno a fare le traduzioni? Ah, vanno in inglese con sottotitoli spesso o addirittura doppia, non dipende dai paesi. Vanno su, in tutta Nord Africa vanno su Discovery, Discovery Kids. Ovviamente in Cina non sapete nemmeno quanto pubblico avete. In Cina il pubblico medio della televisione cinese, CCTV, è di 124 milioni di bambini. 124 milioni di bambini, non di adulti. L'ascolto medio dei canali di CCTV. Beh, ma siccome anche gli adulti sono bambini, quindi siamo a roba di miliardi. Sì, bisogna vedere poi quanti adulti, ma il canale per bambini dedicato ha un ascolto medio di 124 milioni. Se pensiamo che Rai Yoyo l'ascolto medio è di 300 o 400 mila, è un bel record arrivare a 100 milioni. Allora, andando in giro per l'Italia e per il mondo a presentare un po' l'animazione, il giudizio che danno in genere i bambini, quanto è importante? Assolutamente, noi facciamo come tutti i produttori, facciamo dei focus group, quindi cerchiamo di capire quanto di quello che noi adulti, neanche vecchi, come meglio, sono nonno. Ma forse il punto di vista del nonno. Quanto ti influenza da nonno? Perché un conto è influenzato da un bambino, ma dal nipotino credo che cambi un po'. Sì, assolutamente. Io sono una nipotina che in questo momento ha due anni ed è veramente molto interessante vedere le reazioni. Naturalmente c'è poi un approccio molto più scientifico che è quello dell'ascolto. Facciamo dei focus group in giro per l'Italia, nel sud Italia, nel centro del nord, per vedere qual è il gradimento dei bambini rispetto alla serie. E c'è una cosa curiosa che mi ha molto colpito di un focus group a Milano. Hanno chiesto con non-chalance ai bambini, erano una ventina di bambini, quali erano i quadri animati che guardavano. E hanno citato, naturalmente, Peppa Pig, Masha, i pigiamini, e non citavano Yo-Yo. Allora io ero imbarazzato, ho detto, accidenti, qui va male, non conoscono Yo-Yo. E l'intervistatore ha poi chiesto, ma è Yo-Yo, non lo vedete? E loro, una bambina alzata il dittino, ha detto, ma che c'entra? Io-Yo siamo noi. Bella però questa cosa. E questo è stato illuminante, sì, perché ci ha aiutato a capire che abbiamo fatto una serie, e questo era l'obiettivo, che risponde al nome del canale, ma anche che ha quel tipo di funzione, di capacità di identificazione. Il bambino, il supereroe, lo guarda, lo apprezza, lo ammira. Con Yo-Yo si identifica. E quindi non aveva nemmeno bisogno di dire, vedo Yo-Yo, io sono Yo-Yo, quindi essendo Yo-Yo, vuol dire sono me stesso. E quindi diciamo che quel canale sono loro. Sì, sì, e questo è importante secondo me e la dimostrazione che abbiamo raggiunto. Vorrei dare un premio che sarebbe il 200% del successo di questa cosa, perché comunque è una cosa estremamente importante quando si riesce a fare un qualcosa in cui un bambino si riesce ad identificare. È una storia più bella che si possa riuscire a smuovere nei bambini e farli diventare partecipi loro stessi alla cosa. Sì, e poi c'è naturalmente l'aspetto che a noi piace molto e che a me è piaciuto in particolare è quello di lavorare come un grande artista italiano che è un buon espolo. Un espolo è un artista molto molto internazionalmente, anche in Italia, negli ambienti dell'arte figurativa. E portarlo nel mondo dell'animazione secondo me è stato, non dovrei dirlo io, ma è stata un'intuizione interessante perché in qualche modo è vero, molti critici hanno sempre detto in passato anche che il mondo di Ugo Nespolo è un mondo di cartoni animali. Per un conto è immaginarlo nei quadri e un conto è invece vederlo alla prova. Allora, i cinque minuti che ci hanno consentito questi organizzatori sono ormai trascorsi, ma che fai tu al di fuori di fare cose di animazione? Animazione. Animazione. Animazione parlata, scritta, disegnata. La mia passione, questa è una passione culturale, questo è un mestiere per il quale, come tutti, un mestiere un po' del cinema e come tutti i mestieri che ti piace fare, che non smetti mai di fare. Siamo stati un po' troppo seri, però spero di poter rifarmi con un'altra intervista anche un po' più allegra, nel senso di qualche battutaccia stupida che di solito sono bravo io. Volentieri. Grazie, ciao.